Corbo è scomparso ci siamo, ci siamo, siamo tornati all'ultimo, il brivido all'inizio ben ritrovati, ben ritrovati a tutti un saluto a chi già ci sta scrivendo, BN Live nuova edizione stavolta non ci sono io non c'è colpo Gobbo ci sono io, Cristiano Corbo, naturalmente un saluto ai nostri ospiti ciao Francesco Guerriere di calciomercato.com ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti e ovviamente un grande saluto al direttore Romeo Agresti, ciao Rome ciao Cri, ciao Frau ciao a tutti secondo te proprio la situazione Mili che poi Romeo ce l'ha illustrerà, cambia un po' il colore del mercato, cioè secondo te mostra un nervo scoperto, diciamo un mercato che non è stato completato al 100% ma allora secondo me Giuntoli ha lavorato molto bene sul mercato faccio questa premessa, sia in entrata ma soprattutto in uscita abbassando il monte in gaggi, levando molti giocatori che erano uscita da diversi anni ma non si riusciva a trovare una sistemazione detto questo, hai un vice Vlaovic a mezzo servizio, perché Milic non lo scopriamo oggi, è molto inclina agli infortuni, lo è stato a Napoli lo è stato a Torino, storicamente è un giocatore che si infortunia molto spesso, io penso che però senza Milic, se Vlaovic dovesse continuare in questa situazione complicata, a fare pochi gol o nessuno, Motta potrebbe anche inventarsi qualcosa di diverso, penso a un falso 9, penso a un attaccante con caratteristiche diverse, io credo che sia un allenatore giovane, con molte idee moderne, nuove e credo che alla fine una situazione la possa trovare, un allenatore che a me piace molto, personalmente Roba, ci stavi parlando di Savona e anche di Milic ho fatto una modifica ora non cado più, osserverete che ora non cado più allora, Savona è una botta che ha preso contro il Napoli, quindi oggi semplicemente un riacutizzarsi di questa contusione ma non penso che preoccupi in vista della trasferta di sabato Milic se ne parla dopo la sosta credo a questo punto di ottobre ricordiamo che c'è anche una sosta a novembre quindi vediamo un po' quello che succede con Sesao meglio in crescita, credo che possa mettere il mirino Lipsia e chi manca? no, niente, Gatti sta molto meglio si è allenato tranquillamente quindi direi che la situazione è abbastanza sotto controllo peccato per Azic cosa ha avuto un problema? Coscia sinistra, no? Se non erro Coscia sinistra, coscia sinistra che si porta dietro insomma da quei giorni in gruppo perché lui era rientrato e poi alla fine si è dovuto di nuovo fermare però come abbiamo detto sin dai tempi della Germania Azic è un profilo che Tiago Motta insomma tiene molto in considerazione probabilmente soprattutto all'inizio della stagione se non fosse stato per quell'infortunio alla gamba destra avrebbe trovato anche i primi minuti con la maglia con la maglia della Juventus lo aspettiamo perché è giovane può fare bene qualcuno già ironizza si sentiva Piazzic con questo ecco, ecco bravo ma cosa c'entra sta cosa? Piazza ti hai fatto il crociato due volte ti hai fatto di tutto e di più tutti infortuni brutti qua stiamo parlando di problemi di natura muscolare cioè non capisco questa battutina che viene fatta cioè siate più originali no almeno? c'è da dire che Piazza c'è abbastanza originale come come crasi ma non difenderli non difenderli la creatività mi piace lo sai però in questo caso non c'entra non c'entra ma non c'è correlazione no? perché un cosa uno si fa due crociati allora capisco la battutina del cavolo ma la capisco ma così no no certo 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 metterà tutti sul campo esattamente però lo aspettiamo torna dopo la sosta torna dopo la sosta anche a Rick Milik la domanda che ho posto a Fra Rome secondo me ci puoi dare una risposta molto molto attenta e molto precisa secondo te la situazione Milik cambia un po' il colore del mercato della Juve cioè mostra questo nervo scoperto il fatto che non sia stato completato al 100% tu lo sai e adesso lo dico anche a Fra io c'è un grosso rimpianto che si chiama Tammy Abram perché per me bastava prendere quel giocatore lì e tra l'altro Fra lo sa era stato anche un po' proposto alla Juve c'erano stati dei giorni in cui quando Juve e Roma parlavano sul tavolo erano stati gettati tanti nomi Chiesa, Sule, Abram e Sharawi e io nel mio piccolo quando dicevo a me piacerebbe Abram venivo no preso di insulti da tutti ma come fatti uno come Abram e te lo dimostrano al Milan è una risorsa importante perché può giocare con una punta può fare l'unico terminale entra nelle rotazioni quindi secondo me lì sarebbe bastato prendere l'Abram di turno senza inventarti cose incredibili ora siamo in una situazione di difficoltà secondo me per quanto riguarda il numero 9 perché o segna Vlaovic o non segna nessuno il problema è che delle sei partite fin qui giocate Vlaovic ha segnato in una partita due gol quelli che ha fatto finora e quando Vlaovic fa fatica noi non segniamo poi ieri ne abbiamo parlato ci sono anche un po' delle scelte che non ho ben compreso perché se dici che Mico Gonzalez è un numero 9 poi non capisco perché lo debba fare UEA contro la Roma al suo ingresso però sono scelte e quando azzecchi sei un fenomeno quando non azzecchi i vari Romeo Aggressi ti criticano quindi sì secondo me è un tema ragazzi per gennaio l'attaccante perché o Vlaovic inizia a grigliare e grigliare e Milic quando rientra dà delle garanzie oppure secondo me ne parleremo non so cosa ne pensa Fra poi il mondo è pieno anche di attaccanti di opportunità esatto esatto ti suggerisco anche questo commento di Roy si parlava di problema Allegri Vlaovic adesso insomma anche nella nuova stagione siamo ritornati al punto di partenza è una questione di allenatore a questo punto non credo allora io penso innanzitutto che Abram poteva essere benissima unità per la Juventus come dice Romeo tra i tanti nomi che hanno fatto tra club hanno parlato anche di Abram ma io penso che il problema l'ostacolo sia stato più il non riuscire a piazzare Milic in un mercato in uscita ha fatto benissimo è mancata forse una squadra per Milic e a quel punto non riuscivi più a prendere un vice Vlaovic avendo già l'attaccante polacco e penso che per quello non l'hanno preso più nessuno detto questo per quanto riguarda Vlaovic Allegri Tiago Motta in questo periodo si sta parlando molto del paragone tra l'altro Tiago Motta Allegri chi era pro Allegri con questa squadra avrebbe vinto pure lui chi invece è contro Allegri e favorisce il gioco di Tiago Motta secondo me per come la vedo io inutile fare paragoni tra i due il ciclo di Allegri per come la vedo era finito in tutti i modi si era capito Allegri è un grande allenatore ha fatto grandi cose con la Juventus ma era il momento di cambiare io penso che questo per la Juve sia l'anno zero detto questo entrando nello specifico su Vlaovic adesso è arrivato il momento per lui di fare la differenza perché se non sbaglio è un classe 2000 quindi a 24 anni sono tanti anni che si parla di Vlaovic ma è giovane non giovanissimo ha il peso di una maglia importante come quella della Juventus perché spesso anche i tifosi si dimenticano che i giocatori non sono soldatini che li levi da una squadra e lo metti da un'altra parte non cambia niente la stessa cosa comunque la maglia della Juventus pesa molto di più rispetto a quella della Fiorentina io penso che lui per carattere sia un giocatore che vada un pochino coccolato che vada un pochino reso al centro della squadra l'obiettivo di Tiago Motta credo sia quello di metterlo al centro della Juventus del presente e del futuro adesso è arrivato il suo momento però deve iniziare a segnare allora un nome che è uscito nelle ultime ore è quello di Vittor Rosimè ne ha parlato anche la dirigenza del Galatasaray sappiamo che è di proprietà del Napoli sappiamo che il Napoli vuole tanti soldi e questo è stato poi ciò che lo ha portato effettivamente in Turchia questo screzio oltranza con Aurelio dell'Aurentis risposta secca parto da Romeo è una possibilità non è una possibilità ci sono tanti anche lì bisogna capire effettivamente quanto possa chiedere il Napoli su un fatto che è giunto lì lo segue lo voglia ha pochi dubbi ma allora fermo restando che nel mercato abbiamo visto elicotteri crude ora Osimè a fine settembre non può essere un tema come puoi parlare non sai quello che può succedere nell'estate 2025 non sai cosa mangi stasera a cena figurati quello che può accadere fra tot mesi quindi poi onestamente non so neanche se Osimè in un mercato del tutto a momento fantasioso sarebbe l'attaccante ideale per Tiago Motta perché comunque lui vuole un certo tipo di giocatore evidentemente quindi onestamente per il momento mi sembra più una forzatura legata al fatto che Vlaovic non giri Fra? No io sono d'accordo ragazzi al momento mi sembra fantamercato Osimè sia per gennaio sia ad oggi per come stanno le cose anche per il prossimo anno intanto il Galatasaray ha detto fino a fine stagione ce l'abbiamo in pressione noi ce lo teniamo noi il prossimo anno è chiaro che è tutto da vedere però De Laurentiis che dia un giocatore importante come Osimè alla Juventus mi sembra molto molto difficile c'è chi ha detto è già successo con Higuain è vero ma Higuain aveva una clasula recissoria molto più bassa rispetto a quella di Osimè perché Osimè c'era di 75 milioni ma solo per i club esteri quindi chi vuole in Italia prendere Osimè deve sedersi a trattare con De Laurentiis è giunto lì per come si è lasciato con De Laurentiis che si siedono a trattare due la vedo ancora più fantamercato di Osimè alla Juventus mi sembra ancora più strano è vero